Però, vada, vuoi già prendere il mio posto? C'è un regno di cittadinanza se vuole. Ma lei dovrebbe scegliere, dei conduttori, che ho letto anche in questa settimana, hanno dei compensi altissimi. Lei, se deve fregare un po' a me, ma vada a fregarlo ai conduttori Rai che vedo che hanno dei compensi e sono usciti. Le conviene di più perché se lo frega a me non è che ci fa tanto. Deve fare da quelli. Con Cairo non conviene, mi dice. No, Cairo è un superstar. Superstar le paga tutti benissimo. Però già che può scegliere. Io che ti rende un appuntamento allora, così lo incontro. Potrebbe essere dinamico, piace a Cairo. Però le dico, già che punta uno, punti quelli che incassano molto. Ho capito. Dai, prende Giletti, dai.